Domenica 28 luglio, con la consueta cerimonia di consegna dei riconoscimenti, il premio Levi ha valicato la sua 25esima edizione. 25 anni fa questo concorso partì proprio grazie all'impegno che la Camera di Commercio, in allora rappresentata dal sottoscritto, insieme al Comune, alla Proloco e in allora anche la provincia di Genova, per essere onesti, si accordarono su quell'organizzazione. Diciamo che ha subito preso campo, ricordo che all'inizio gli oli presentati non erano assolutamente così buoni, ma proprio per questo nel tempo, non certo solo per merito del concorso ma anche del miglioramento qualitativo, soprattutto dovuto alla tecnologia dei frantoi, diciamo l'olio di queste zone è diventato effettivamente quello che speravamo, tal che oggi viene proposto anche a livello internazionale dalle aziende più strutturate. Nato infatti nel 1995, su iniziativa del Comune di Levi e della Camera di Commercio di Genova, è divenuto provinciale nel 1999 e interprovinciale nel 2005, con l'ingresso della Camera di Commercio della Spezia. Il concorso conserva lo scopo di promuovere il miglioramento qualitativo dell'olio di oliva prodotto nella riviera Ligure di Levante e di avvicinare i produttori alla denominazione di origine protetta riviera Ligure, riconosciuta nel 1997. Due dunque le categorie tradizionali, oli extravergine e oli dop, alle quali per la prima volta è stata aggiunta quella degli obbisti, vinta da Giorgio Merione di Nè. Per la categoria oli extravergine il primo premio all'azienda agricola Belfiore di Castelnuovo Magra. Completano il podio al secondo e terzo posto l'azienda torchiana di La Spezia e Botto Michela di Moneglia. Sono molto contento perché l'anno scorso siamo arrivati i secondi, è già un po' di anni che giriamo intorno al primo e quest'anno ce l'abbiamo fatto. Cosa ne fa del suo olio? Noi lo vendiamo in tutta Italia, adesso anche all'estero, quindi abbiamo una buona distribuzione. Per adesso se il tempo ci assiste andiamo abbastanza bene, solo che i cambiamenti climatici si fanno sentire abbastanza. È stato detto che la prossima non sarà un'annata buonissima, lei come lo vede questo aspetto? C'è stato, fino adesso era un anno quasi perfetto, poi adesso c'è stata una cascola verde e c'è un attacco di mosca, comunque fino a novembre non si può dire niente. Speriamo ancora? Sì, speriamo ancora. Per la categoria Olidop il vincitore Lucchia e Guastaldi di Santo Stefano Magra, seguito da Coppa Agricola Isola di Borgonovo Mezzanego e la Favola della Mignola a Lavagna. Qui a Levi abbiamo già vinto altre volte, veniamo sempre con piacere, è un riconoscimento importante, il più importante per la Riviera di Levante, quindi per noi è un riconoscimento di maggiore pregio. Quest'anno siamo stati in finale al campionato italiano, Ercole Olivario, insomma comunque non ci si abitua mai a vincere i premi. Ma come si fa ad essere così bravi? Ma ci vuole solo tanta passione e impegno, tanto sacrificio, amare il proprio lavoro, questo è il segreto. Lei è un'azienda agricola? Abbiamo un'azienda agricola, il frantoio nostro, poi io sono assaggiatore d'olio, capo panel e vivo nell'olio praticamente. Collaterale al premio Levi è il concorso per il miglior ulivetto, nato per premiare quanti nei rispettivi comuni di appartenenza si dedicano alle cure degli ulivetti. A riconoscimento della fondamentale attività di manutenzione del territorio. L'appello che ho lanciato, ho riferito soprattutto agli ulivetti affinché tutto il territorio del nostro Tiguglio e non solo partecipi a questa importante rassegna, sono un messaggio che mi auguro venga raccolto dall'intero territorio e da tutti i comuni. Un impegno che continua con ulteriori iniziative per promuovere e richiamare interesse verso Levi e la sua comunità. Levi da 11 anni propone la rassegna Noti tra le note che è curata da Mario Trabucco, noto artista violinista di fama internazionale che anche quest'anno ha voluto presentare un assortimento di artisti notevolissimo. Sono sei serate che si svolgono sui sagrati delle nostre chiese, l'uno, l'otto, il quindici, il ventidue, il ventinove e il trentuno del mese di agosto alle ventunequindici. Salite, venite numerosi perché potrete veramente apprezzare delle qualità artistiche notevoli e alla fine ci sarà pure un rinfresco offerto da Comune Proloco.